Si iterrà il 2 settembre la cerimonia conclusiva del premio letteratura gialla di Camaiore, giunto alla sua ottava edizione. Stamani la Fondazione Città di Camaiore ha reso noto la terzina di scrittori che si contenderà la palma finale. Abbiamo anche quest'anno la terzina dei tre autori che si contenderanno il premio di vincitore nella finale del 2 settembre. Sono Maurizio De Giovanni con Il giorno dei morti, edito da Fandango Libri, Marco Malvaldi con Odore di Chiuso della Sellerio e come opera prima Carlo Cannella con Tutto deve crollare, edito da Perdisa. Ovviamente come ogni anno faremo la consegna fisica di questi tre titoli ai nostri 51 giurati che avverrà venerdì prossimo, il primo di luglio al Bagno Isonzo. In quell'occasione avremo due graditi ospiti a parlare di giallo e particolarmente a parlare di Toscana in giallo. Saranno Mario Spezzi, giornalista della Nazione e autore di un libro importante sul caso del mostro di Firenze. Con lui ci sarà invece Anna Meacci che è un'attrice. Sono molte le iniziative organizzate dalla Fondazione Città di Camaiore, una dei fiore all'occhiello però sicuramente è questo premio di letteratura gialla. Indubbiamente questa forse è la perla un po' più fulgida, quella che rispende di più della nostra collana di eventi e manifestazioni. Noi cerchiamo di dare un rilievo a questa manifestazione di importanza nazionale, ma per dire la verità siamo un po' anche ambiziosi, dovremmo dare anche un tocco di internazionalità.